Empatia e psicologia, capire le intenzioni dell'altro e cogliere anche i significati delle intenzioni dell'altro. È importante dalle madri, si devono capire al volo, si devono capire al volo tra di loro in particolare. Palla in mano, come siamo lontani dal gioco del calcio con queste esercitazioni. La palla, decidete, è una fascia e allora vi dovete fasciare come una mummia, oppure è vernice e dovete dipingervi tutti. Me la fate rotolare pian piano su tutte le parti del corpo senza dimenticare neanche un centimetro. Via, vi do il tempo di farlo. Ascoltate bene il vostro corpo perché dovete sapere se è passato. Troppo in fretta il tuo corpo non ha memoria, quindi fallo un po' più lentamente. Tutte. Ovviamente, compresa la suola della scarsa. Ovviamente il cavo popliteo ha il termine difficile, ma è il momento per insegnarvelo qual è. Dietro al ginocchio. Mi continuate l'esercizio, però mettete la palla a terra e vi coprite tutti, vi verniciate tutti, ma la palla è lì, siete voi che vi rotolate sulla palla per verniciarvi. Va bene ragazzi, bravi, può bastare perché il significato si è capito. Siamo lontani dal gioco del calcio? No. No. Perché quando io spiego un esercizio, loro devono capire. Si parla oggi di imitazione, i neuroni specchio. Imito. Importante. Ma è difficile imitare. Io imito se sento il mio corpo. Se so comprendere quello che sta facendo lui, se lo inquadro anche nei dettagli, e so trasferirlo sul mio corpo. E per farlo ho bisogno che i miei recettori rispondano. E i miei recettori quando rispondono, io sono pronto a tutto, anche a fare stretching. Ci credo o no nello stretching. Io poco nello stretching meccanico. Però se devo sentire che un muscolo si sta allungando nel senso di non tirando, ma si sta decontraendo, devo sentire esattamente quasi ad occhi chiusi qual è il muscolo, in che punto e se sta tirando oppure sta mollando. Come posso vedere giocatori evoluti, giocatori professionisti che fanno stretching parlando o guardandosi attorno. L'attenzione è a se stessi o all'ambiente? Devono decidere. Se no è qualcosa di meccanico, tiro e basta. Allora, abituare ai propri recettori che mi informano. Ecco che allora diventa importante anche questa esercitazione. Ti sto parlando di attività di base. Non sto parlando come Fabio di un momento più alto nel percorso dove queste cose dovrebbero essere acquisite. Noi dobbiamo sollecitarle prima, riprenderle anche dopo quando c'è bisogno, ma sollecitarle prima per portarli a lui in buone condizioni. Mi fate un palleggio programmato? Cioè decidete prima di partire che farete? Due volte piede destro, testa, coscia, piede. Dico io a caso. Inventatevela voi, adatta al vostro livello e provatela. E verificate se fate quello che avete programmato. Ok, stop. Sono solo piccoli cenni, eh. Teniamo presente una cosa, che nessuna pedagogia può prescindere da un'analisi del sociale di oggi, attuale. E qui potremmo andare in dibattito. Il sociale di oggi vede dei bambini, dei ragazzini, che stanno poco sul pezzo. Non hanno, perché li abbiamo cresciuti così, li abbiamo abituati così, non hanno la volontà di stare sul pezzo, dell'orgoglio di riuscire. Sbaglio continuo, continuo finché...